Sì, è stata una settimana dove una tragedia ci ha colpiti, siamo tutti molto toccati da questo avvenimento, la scomparsa di Sergio e nulla. Adesso continueremo a stare vicino alla sua famiglia e a cercare di dare tutto in campo anche per lui. L'obiettivo è quello di migliorarci giorno dopo giorno con gli allenamenti, il mister su questo ci crede tanto, ci crediamo anche noi, quindi vogliamo cercare di fare più punti possibili e vedere poi dove saremo. Il mister e tutto lo staff ci chiedono di andare sempre al massimo, quindi noi diamo tutto sul campo per poi raccogliere i frutti il sabato in campionato. Il gruppo mi ha accolto benissimo, quindi mi sono trovato subito a mio agio, conoscevo già qualche ragazzo e poi questa idea di calcio mi piace, mi ci vedo molto dentro e sono contento di poter dare una mano. Sicuramente diranno tanto, noi le affronteremo una per una, come abbiamo sempre fatto, cercando di lavorare bene in settimana negli allenamenti e poi magari tireremo le somme un po' più avanti, adesso è ancora presto.